buongiorno e buona giornata siamo alle sette più o meno quindi non si può essere molto diciamo casinisti in questo primo video di oggi parliamo di italia contro irlanda lander 21 sfida che si svolgerà alle ore 17 ma lo stadio qui mi riporta su diretta benevento anche se io ricordo pisa comunque niente italia orlanda che sfida per l'italia veramente importante anche se purtroppo non sarà avander 21 a scendere in campo ma sarà avander 20 visto che nella selezione di nicolato sono ben sette giocatori positivi al covi un italia orlanda che praticamente vede l'italia al secondo a posto quindi per la classifica per miglior piazzamento come seconda tal momento l'italia è ottava però a due partite meno considerando che quella di settimana scorsa non la giocata quindi l'italia è seconda nel gruppo i a 13 punti invece l'irlanda è prima nell'ultima sfida vinse 4 a 1 in casa contro la svezia irlanda prima 16 punti se andiamo a fare un riferimento invece se andiamo a fare un riferimento no non mi riesce a dare casa trasferta vabbè quindi in pratica è una sfida importante che l'italia deve cercare di vincere e la partita sarà avrà copertura televisiva su rai 2 punti alle ore 17 anzi che dolce a meno 5 10 bar un quarto d'ora prima ringrazio l'iscritto al mio canale numero 40 noi ci vediamo a frappè per un secondo video poi più tardi ne arriverà qualcun altro quindi sembra forza italia grazie a voi tutti che mi supportate sopportate mi sostenete alla prossima ciao